4.34.6 ricordo che questa è solamente una guida scopo illustrativo e non assumo la responsabilità di danno uso proprio del materiale questa che comprende di poter comprare qualsiasi cosa anche senza sciambelle e ora vi mostrerò si sta caricando come potete vedere adesso o c'è un bel 152 e o se scusate o c'è un bel di 52 vado nello stall ad esempio questo qua mi cosa la mongolfiera 55 10 52 comunque posso metterla se avete le vostre ciambelle prima verranno scarate le vostre e poi potete continuare ad acquistare tranquillamente come una missione come vedete funziona perfettamente adesso non ho il livello per poterlo sbloccare però comunque qualsiasi cosa potete comprarlo senza sciambelle senza sciambelle senza soldi ad esempio la fabbrica 150 sciambelle noi non le abbiamo ma ce la fa inserire normalmente come potete vedere funziona mi dice se le voglio comprare però a noi non interessa noi se acceleriamo i lavori come potete vedere che da 4 miliardi 294 fan belle eccetera 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 come potete come avete visto funziona in due modi sia se avete ciambelle zero potete acquistare sia se accelerate qualche lavoro e avete le ciambelle a zero ve le porta a 4 miliardi e passa con questo è tutto e al prossimo video lasciate un like se vi piace e iscrivetevi al canale ciao